Sembra stringersi il cerchio dei tecnici papabili per la panchina del Taranto. I rumors di radiomercato fanno oscillare il borsino per la guida tecnica ionica. L'ipotesi Giacomarro resta attuale. L'eventuale investitura del tecnico siciliano muterebbe anche gli scenari del mercato con gli eventuali ingaggi di calciatori attualmente a Picerno, come il difensore Fontana, i centrocampisti pittaresi e Kosovan, oltre al sogno del bomber Santaniello. Per la panchina comunque ancora spendibile il nome di Auteri del Catanzaro, malgrado i costi dell'operazione appaiano al momento onerosi. Le altre alternative condurrebbero a Tiozzo e Costantino, due nomi alla ribalta in questi ultimi giorni. Il club ionico potrebbe effettuare anche un'operazione simpatia, riportando in riva allo Ionio calciatori amati dalla tifoseria, come l'esperto difensore brasiliano Ramos Borges Emerson, classe 80, le ultime due stagioni vissute a potenza in Serie C. Un altro illustre ritorno in rosso-blu potrebbe essere quello dello spagnolo Nicolas Bremec, l'ex estremo difensore degli Ionici nel triennio dal 2009 al 2012, potrebbe tornare in veste di preparatore dei portieri dopo l'ultima stagione vissuta a Casarano. Il suo ingaggio sarebbe comunque legato a quello del prossimo tecnico dei rosso-blu. In ogni caso, tra Bremec e il club tarantino sarebbero già stati avviati i primi contatti. Altro ritorno ipotizzabile sarebbe quello del giovane attaccante Adam Wattara, dopo la positiva esperienza vissuta nella seconda parte dell'ultima stagione nelle fila della C-Reale, dove ha totalizzato 11 presenze e 3 reti. Tra i tanti profili di interesse ci sarebbe anche il difensore classe 91 González del Fasano.